Vengo dal dottor Tarello da tantissimi anni perché mi sono sempre trovata bene, ho sempre avuto piena fiducia in lui, è veloce, è una parte della mia vita che mi fa molto paura venire dal dentista, però mi fido talmente tanto che ho portato anche mio figlio e sono soddisfatta e contenta, lui non ha paura. Mi trovo bene anch'io, empatico, bravo.